E c'è anche un'economia che non si arrende alla crisi e che vuole farcela, anche la scorsa settimana, ricordate, abbiamo accennato al comparto della chimica gomma plastica molto attivo in provincia di Salerno con una distribuzione geografica diffusa tra l'agronocerino sarnese e il cilento valeriano e la Piana del Sele e l'area metropolitana. Soprattutto nella Piana del Sele per il volume di affari, con un volume di affari rilevante in particolare nell'area tra Battipaglia ed Oliveto Citra dove sono presenti aziende che producono nel silenzio e nella modestia ma che hanno successo in Italia e all'estero. E per disegnare meglio lo scenario di questa economia industriale che resiste e anzi contrasta alla crisi, ospite di Trenda Telecolore, Alfredo Valerio, General Manager di Plastica Alto Sele che abbiamo invitato in qualità di Presidente del gruppo chimica gomma plastica di Confindustria Salerno. Dottor Valerio, quali sono i punti forti, le eccellenze che caratterizzano il settore in provincia di Salerno? Sicuramente quello che può caratterizzare il settore chimica gomma e plastica che risulta essere piuttosto variegato per la capacità di coprire diversi aspetti merceologici è che rappresenta un settore storicamente presente nella provincia di Salerno ed è rappresentato sia da piccole aziende che da aziende di medie e grandi dimensioni. Le merceologie di riferimento si differenziano a seconda se si tratti di stampaggio di materie plastiche, automotive, packaging o industria chimica specifica. Quella che è la caratteristica forse comune di tutte le aziende del comparto è che ha una grande capacità di risposta al mercato e la capacità di rappresentare velocemente le nuove esigenze del mercato. Gli imprenditori investono molto in innovazione sia di processo che di prodotto così rispondendo a quelle che sono le richieste del mercato e questo ci consente di rimanere competitivi sul mercato che è in fortissima evoluzione, continua a essere in fortissima evoluzione. Il settore chimica, gomma plastica ha un buon mercato interno anche se ora i problemi cominciano ad esserci anche qui ma è anche un settore export orientate. Quali sono i paesi esteri da cui vi aspettate una domanda più robusta? I paesi ovviamente noi facciamo sempre più di riferimento a tutta quella che è l'area dei paesi europei che rappresentano un secondo nostro mercato domestico. Su questo la speranza è di aprirci su tutti i mercati del Mediterraneo, in particolare la Turchia che rappresenta un mercato in fortissima evoluzione e sul quale è prevista una missione a fine novembre alla quale parteciperanno alcune aziende del nostro comparto con la collaborazione di Intertrade e della Camera di Commercio. Accanto a questo ci sono i paesi poi della fascia del Nord Africa che negli ultimi mesi hanno visto grosse evoluzioni. In particolare noi faremo sempre nel mese di dicembre una missione in Tunisia che è il primo paese che ha manifestato interesse a uno sviluppo verso l'Europa. Su questi paesi io credo che sia lo sbocco naturale per le nostre imprese sia per una posizione di privilegio nel Mediterraneo sia perché storicamente rappresentano il nostro mercato di sbocco più immediato.